Ren Horror Show, come ogni lunedì ormai, proviamo The Exit 8 Eh così, ah, parte così? Con un personaggio molto amico, molto amico in realtà, non sembra niente di strano finora E si vola così, in questa stazione Dove va? Pediniamolo, magari fa qualcosa di strano Magari ci porta direttamente, però, vedi Potrebbe anche essere, proseguiamo noi di qua invece, vediamo cosa succede Rimane lì, è già molto inquietante questa cosa Nella stazione di Roma termine, adesso ci caccia fuori il ferro e ci deruba dei nostri pochi averi che abbiamo 20 centesimi giusto per due gole d'or, mi sa che a sto punto è meglio che lo derubo io, caccio io fuori il ferro Ci dovrebbero essere delle anomalie in giro, quindi bisogna guardare un po' attentamente Non posso aprire le porte, non posso Non posso fare nulla, non so neanche che tassi schiacciare Posso correre però, bomba, eh vaga di Velocissimo, mi sa che sto girando in tondo, barra, non risolvendo un cazzo Allora Ma dai, mi sembra di stare in Matrix, ho già giramenti di testa Ma arriverà da qualche parte questo figlio di puttana Forse corro a bomba e lo vado a intercettare? Proviamo, vediamo cosa succede Aspetta, non ci arriva in tempo, non c'è nessuna uscita comunque Fermati, lo vedi? No, 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 no Tu non vai da nessuna parte figlio di puttana Adesso stai qua con me a beccarti lo schifo che è venuto giù da lì È uno dei tre moschettieri questo Lui sa qualcosa che noi non sappiamo Che cazzo è quella merda lì? Prova a guardare i poster, prima ho visto uno strano con gli occhi Cos'è che hai visto tu con gli occhi? Però questa situa a me non piace Ah Aspetta Eccole qua Se trovo anomalie devo girarmi direttamente Se non le trovo non girarmi Quindi vado avanti Vedete anomalie? Merda che cosa giù dalle pareti Quel cosa che sburra No Mi sembra tutto a posto quindi vado avanti, giusto? Mi volto perché secondo me Quegli occhi lì stavano guardando da un'altra parte 1-S2, vedi? Eh, bella Chi cazzo è che sa le anomalie? 3 Non mi volto Mi devo voler salire Non mi sembra ci sia nessuna anomalia Ah no Sono ritornato allo zero È un casino sto gioco Allora Eh, ma devo anche stare attento Ai posteri Non so se c'è così i poster Spero che non cambino anche le scritte Perché sennò siamo cagati, raga 4, ok Siamo di nuovo ai 4 Ce l'abbiamo fatta È difficilissimo quei poster Ti prego Siamo ritornato allo zero Mi sta guardando? Mi ha guardato? Non mi ha mai guardato in vita sua Questo figlio di puttana Guardalo, guardalo, guardalo Brutto bastardo Sì Mi guardi adesso, eh Ti ispiro Ti ispiro con quel baffetto beffardo Maledetto rotto in culo Voilà Vedi? Livello 2 E questa è la tega Bellissimo, bellissimo Maledetto schifoso Con quel baffetto beffardo Andiamo avanti Vediamo cosa succede Zero Puttana Adesso mi viene nervoso E si riparte da zero Il cartello è sotto sopra Mi fido, eh Il numero 8 È il contrario Bravo Madonna Che sguardo Che sguardo che avete ragazzi Facca di Delle acule assassine Liquido Torno indietro Boh Come faccio io a vedere anomalie Senza fermarmi Come cazzo faccio A vedere anomalie Anomalie? Avete visto anomalie? Eh, come faccio a guardare tutto? È impossibile guardare tutto Io ho la memoria a breve termine Che non funziona Non va Non è connessa Io sono nato senza memoria a breve termine Difatti Eh, direi che questa qui È un'anomalia ben precisa Poca di che ansia Quella foto Andiamo indietro Diretti Ah, numero 2 Si vola Si vola Il poster L'abbiamo visto tutti Il poster l'abbiamo visto tutti Non passava tanto inosservato quel poster Il click Le insegne I numeri Le lettere I gli elettri I diagrammi Il tipo Eh, ok Il tipo è ok Secondo me Non ci sono anomalie Come faccio a vedere delle anomalie Se devo muovermi? Il primo Let's go Goloso 2 Non mi sembra ci sia nulla E siamo al 2 Ok Lo smoking è a posto Le porte sono a posto Lì è a posto E il baffetto a sparviare è a posto E in teoria Cantante Stiposo Dove era l'anomalia? Porco dio È un figlio di puttana sto gioco Le luci? Le luci? Sono stortissime? Sono stortissime Sì queste luci C'era C'era un adesivo diverso? Boh Chi lo sa Chi lo sa Adesso sbotto come un matto Perché è impossibile Dai Telecamera accesa da sopra Niente 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 Goloso Livello 3 Vado avanti Goloso 4 Non c'era niente Attenzione siamo salvi Vabbè mai superato il 4 Vediamo Strano che non ci sia un'anomalia Appena torno indietro Me lo conta come indietro 5 Goloso Dai Fammi vedere qualcosa Boh Anche qui Mi sembrava tutto normale A parte Stracane Puttana schifosa Puttana Io non le vedo le anomalie Io non le vedo Non le vedo Non le vedo queste cose Sono uno stronzo di merda Non le vedevo Non le ho viste Non le viste Non le ho viste Eh ricominciamo da capo Bastardo Allora Vedete le scale Se il cazzo Vaffanculo C'è un'anomalia quella lì Si torna indietro Amigo La differenza tra me E un prete Sarebbe che quando lui Fa sesso Fa peccato Se lo faccio Io faccio miracolo Gigantesco Una super anomalia Pazzesco È diventato Big pop a pump Di tutto un punto Ho preso Trembolone Questa è chiaramente Un'anomalia Non c'era prima Ora è disegnata così Vaffanculo Che schifo Si torna indietro Addios Si vola A livello 5 Andiamo a incontrare Fabrizio Il fresco di zona Dite Dite che è un po' veloce Abbiamo già trovato l'anomalia Bibip Willy Coyote Che cazzo fa Oh 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 Porco di Oh oh Pazzo Andiamo via Andiamo via Ora 7 Poi sbagli Speriamo di no Riccardo Sennò ti vengo a trovare a Milano Parto in leva con la moto Ti vengo in casa con la moto In teoria Siamo verso L'ultimo Livello Sembrerebbe tutto in ordine Vediamo 8 Siamo arrivati all'ultima fase Sbaglio Sono più grandi i poster E allora direi Bandidos Che è fatta Siamo usciti Dalla zona 8 Abbiamo finito il game È fatta Eh Allora Là in fondo Non so se lo vedete Io lo vedo Là in fondo C'è un omino Nascosto dentro al muro La rischio Vado indietro Non mi piace quel personaggio Là in fondo Cassico Imprenditore Milanese Uè Fega Adesso vado a farmi lo sprizzino In centro Fega Un saluto A tutti i milanesi Provenienti Sera perché se era buona Non eravamo raffreddati Lo zio Reno 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 Porco Dio Punto Questo era il punto Ma basta Non devo uscire Ma porco Me l'ho scammato Sono più di 8 livelli C'è la faccia Nel soffitto Bestia Sì Ho capito Fratello Ma come fai a vederla Questa cosa qui Come fai a vederla Dai Ma scusa Torno indietro Subito Cosa c'è che non va adesso C'è qualcosa di piccolo Non fate battute sconce Dove sono i poster piccolini No? Uè fega Vado a prendermi lo spritz Figa Diocan ti blocco Ti blocco Così lo spritz Non te lo vai a prendere Vaffanculo In uscita Da questa Da questa metropolitana Sicuramente Roma termini Senza essere stato rapinato Verso la luce Con tag e create Attenzione Prima run Fatta così Senza neanche sbuttare tanto Attenzione Pickpocket Esatto Attenzione Shippatori Shippatrici Pazzesco 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 Bellissimo gioco Chiederò refound Perché Già finito Quello devo fare Già finito Quack